Nave italiana attaccata dai pirati La Italgarland, porta container di proprietà della compagnia Italia Marittima di Trieste, è stata attaccata a colpi di mitra e bazooka da due barchini di circa 10 metri l'uno, con a bordo 8 persone, mentre si trovava a circa 300 miglia dalle coste dell'Oman. Fortunatamente la nave italiana è riuscita a scappare dai pirati, grazie ad alcune manovre elusive consigliate dalla centrale operativa della Guardia Costiera, immediatamente contattata dopo l'attacco. La sedia terrestina di Italia Marittima fa sapere che fortunatamente non ci sono stati feriti, ma soltanto alcuni danni alla fiancata e alle apparecchiature di bordo della nave. Questa volta i pirati sono tornati a casa senza bottino.